Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Oggi è 26 di dicembre. Ho già fatto tutte le mie commissioni, le mie cose mattutine, ma oggi abbiamo un problema. Vi ho detto che dovevo andare a casa di Giulia. Il problema è che sono le 11, è da ieri pomeriggio che non mi risponde. Quindi non so bene che cosa devo fare, perché mi ha detto vieni, però non mi ha detto un orario o un qualcosa. Cioè di solito vado da lei per mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, tanto sta lì, insomma, non è che la devo aspettare o ha cose da fare. Però il problema è che non mi risponde. E visto che già mi è capitato di andare fuori casa sua e poi l'ho trovata tipo che dormiva, quelli quando dormono non sentono niente. E quindi ho dovuto aspettare tipo ore fuori dal cancello, oppure proprio andare via. Non vorrei partire, fare tutto senza avere una risposta, quindi sto cercando di chiamarla, ma si vede che sta ancora dormendo. Nonostante siano le 11, però questi giorni con i suoi che stanno a casa fanno tardi la sera a giocare a carte. Quindi si svegliano effettivamente tardi. Fatto sta che io adesso vivrò quindi un po' nell'incertezza. Sono le 12 e 51. Alla fine non mi sono preparata nulla perché Giulia mi risponde, il fidanzato neanche. Mi sto anche un po' preoccupando onestamente. Quindi niente, a casa mia se ne sono andati tutti. Mia sorella è tornata giù a caserta con il suo fidanzato, mio padre è andato da amici, mia madre è andata a mia nonna con mia zia e bla bla bla. E alla fine chi se l'è presa in quel posto? Ovviamente sono io. Io stamattina non ho neanche fatto colazione perché questi giorni mi ha detto la nutrizionista di fare una sorta di digiuno intermittente per cercare di tamponare un po' la situazione. Mangiate, però è l'una, cioè a un certo punto devo cibarmi di qualcosa, anche perché da ieri sera che ho un mal di testa, ho proprio un cerchio qua la testa. Quindi anche per prendermi eventualmente qualcosa non posso farlo, sto molto vuoto. Adesso provo a richiamare Giulia per l'ultima volta, dopodiché non so più che altro fare. Si troverà tipo dieci chiamate però loro almeno ci sono sempre. Tesori passeremo il 26 così. Mi andrò a buttare giù sul divano, mi farò una bella mangiata di film, natalizio non, perché poi non ho neanche visto se c'è qualcosa di nuovo in realtà. E niente, è andata così, plot twist è andata così. Alla fine sono finita a farmi il topo key, quindi sto facendo cuocere il tutto insieme. Si sono svegliati in questo momento. Direi che per essere la prima volta che lo faccio ufficialmente è venuto bene. Ci ho messo anche, vedete il formaggino filante sopra? Giù sulla salsa, forse è un pelino troppo liquida, però ora l'assaggio e vi dico. Forse l'ho fatto un pelino piccantino, perché addirittura mi sta gocciolando il naso. Non so se vi succede anche a voi quando una cosa è tanto piccante e comincia a gocciolarvi il naso, no? Alla fine, niente, sono finita così. Sto continuando a vedere i season greetings. Quando lo stavo guardando? Tipo dieci giorni fa, poi mi sono scordata di continuarlo, quindi sto ancora a mezz'ora di un'ora e dieci. Quindi meno male che almeno, vedete, ci sono i miei multipli ragazzi a tenermi compagnia. Scusate ragazzi, oggi non sono stata per niente di compagnia. Alla fine si sono fatte le sei e mezza, non sono più andata da Giulia, da nessuna parte. Anzi, ho ritirato fuori la mia copertina di pile. Mi sono stesa sul letto e mi sono anche addormentata per un po', perché tra mal di testa, mal di pancia, pure il mal di schiena mi è venuto. Cioè, una vecia praticamente, una vecia. Voi che avete fatto qua? Eccu! Eccola! Mia madre mi ha scritto, vieni da nonna che stiamo tutti qua. No, grazie. Cioè, non ce la faccio proprio a muovermi, ragazzi. Non ce la faccio a muovermi. Che state a fare, la lotta? Quindi oggi è andata così, proprio tipo di relax. Tra l'altro, una cosa, a proposito di relax, a proposito di pigiami, mi chiedete sempre dove ho preso questo qui con le sirene fatto così. Oddio, che sta succedendo lì? Ah, si sta importunando tutti. Questo qui io l'ho preso su Asos. È di un marchio, un negozio di Londra mi pare. Però, ragazzi, l'ho preso tipo due anni fa, quindi non c'è più. Quindi tanto mi arriva anche messaggio di Instagram, ma almeno così l'ho detto e via. Detto ciò, quindi adesso penso... Mi ero alzata un attimo per farmi una tisana. Ci sono andata un attimo giù. Mi restendo un pochino, anche perché... Poi ho finito di vedere un film di Natale di merda, fatemelo dire, brutto, di quelli proprio classiconi brutti. E ho pianto come una ragazzina, quindi per dirvi il livello. Che poi, non so se succede anche a voi, ma quando avete mal di testa e vi mettete a piangere, è peggio. Perché è come se vi ovattasse tutta questa zona, non lo so. Quindi, no, cioè non posso vedermi altri film. Ma poi neanche strappalacrime, perché tanto piangerei anche se vedessi, non lo so, Una notte da leoni, penso. Che è uno dei film che mi fa più scompisciare dalle risate di tutti. Però è anche un po' il fatto delle feste in generale. È qualche anno a questa parte che le vivo male, anche da quando non... Ultimo mi rimetto a piangere, non è possibile. Anche da quando non c'è più mio nonno, la vivo in maniera diversa. Non vi so spiegare perché. Però è come se ogni anno andasse sempre peggio. E in realtà quest'anno, devo dire che l'ho vissuta in maniera un po' più... Ok, vivi là come viene. Però è un periodo sempre che mi porta tanta nostalgia e tanti pensieri. È come se fosse un periodo molto più introspettivo. E ripeto, quest'anno è andato un po' meglio rispetto agli altri anni. Ed è anche passato molto più velocemente. Sono felice alla fine di non essere andata da Giulia. Non per Giulia, ma perché oggi non avevo proprio la testa. Sarebbe stato soltanto un giorno in cui gli sforzi di stare bene e dire sì va tutto bene. Ho fatto bene e sono stata da sola. Io ho il presentimento che più vado avanti con gli anni, più sarà una vecchia frignona. Non è possibile questa cosa. Qualcuno mi dica che prima o poi si smette da qualche parte. Non lo so. È andata così. In quanti vlog sono riuscita a piangere finora? Facciamo tipo un record? Oh, sì, sì, dammi un bacino. Non volevo, ma è successo. Quindi ve lo siete beccati. Tra l'altro mi fa straridere che Gwenda abbia ancora la bandierina con scritto Pionic. Non so se la vedete. Eccola. Poi quella cosa di Shrek. Non mi ricordo come ci siamo lasciati prima. Forse alla crisi di pianto. Isterica. Comunque mi sono rimessa qui sotto la copertina con tutti i cagnolini. Dovrebbe esserci una Gwendy qua dietro. Ovviamente c'è anche Cookie. Comunque sto guardando il Christmas cheat day. Thomas Hungry. Mi sa far venire volto a stomaco. Non so quanto sia stata una buona idea. 10 e mezza tipo. Prima sono scesa e mi sono fatta un uovo sodo. Da domani, quando si dice lunedì, ricomincio la dieta a regime di nuovo. Ma in realtà non vedo l'ora perché mangiare, ok, è bello. Però a un certo punto poi quando ti senti male, cioè non si può fare oggi. Sono stata a K.O. tutto il giorno, eh. Veramente non so che mi dà la forza di tenere ancora gli occhi aperti. Prima ho fatto un semiriposino ma è durato veramente poco poco poco. Sono le tre e mezza circa. Questo è il motivo per cui non bisognerebbe fare il pisolino pomeridiano perché poi si finisce in queste situazioni. Comunque io appena poggio la testa da qualche parte riesco sempre a dormire, quindi non dovrei avere i problemi. A parte sull'aereo, ecco lì, non riesco mai a dormire. Però vabbè, altri discorsi. Comunque ho fatto stacca e anche questo vlog è giunto alla fine. Oggi è stata una giornata un po' particolare, quindi ce la siamo beccata così. Quindi detto ciò per oggi è tutto. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!